per la stampa della scritta mi sono affidato a photoshop perché è uno dei programmi che conosco meglio ma credo che si possa fare questa stampa a specchio ruotata a specchio con qualsiasi programma di scrittura fotoritocco o painting nel mio caso ho creato una pagina 297 mm x 210 mm che sarebbero le dimensioni di un foglio ho scelto il carattere che più mi piaceva il colore che più mi piaceva e ho fatto ruotare sull'asse orizzontale la scritta fatto questo l'ho inviato alla stampa alla stampante che mi raccomando deve essere una stampante laser grazie 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 grazie